è che Vittorio Feltri, come ogni cittadino italiano, ha il diritto di esprimere le tue libere opinioni. A me piace un dibattito, una gora pubblica, dove ci sono anche le opinioni più dissacranti, anche quelle più fastidiose, possono confrontarsi e animare un dibattito come stiamo facendo questa sera. Però io credo che il direttore Feltri volesse dire non che la tua opinione, infatti, raccogliamo e l'ascoltiamo. Però io credo che invece Feltri pone su un tema vero, poi forse un po' smorsato, cioè un popolo che è economicamente più debole, più lento, alla lunga, rischia di essere anche moralmente inferiore. E mi spiego... No, però scusate, 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 no, scusate, no, scusate, no, scusate, no, scusate, no, 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 io lo faccio spiegare, però bisogna avere rispetto perché lo ricordo, il popolo meridionale... Io sono pugliese, non usate, no, scusate, no, scusate, no, scusate, no, scusate, no, scusate, ma ho capito, no, però attenzione, perché non si può scusare a certi temi, non lo permette, no, mi spiace, tu puoi essere pugliese, ma non mi interessa quello che stai dicendo sulla morale, non esiste che una parte di morale sia a sud o a nord, eccetera. Ma morale intendo la laboriosità di un popolo, l'intraprendenza, la voglia di fare, di intraprendere, ma la maggior parte dei miei operai sono meridionali, sono gente in gamba che si fa un mazzo così, allora, ho capito, è il problema delle regioni, è il problema delle classi dirigenti di quelle regioni, non di un popolo che merita rispetto. Ma se la gente che vive in quelle regioni fa fatica a trovare un lavoro, vive di reddito di cittadinanza, deve chiedere il favore al politico anche per avere lo sconale e le cure adeguate, quella gente perde fiducia nelle istituzioni e perde anche la voglia di intraprendere. Diventa più fiacca anche nel morale, nella sua intraprendenza. Ma che stai dicendo? Ci sono meridionali fiacchi, meridionali tonici e selezionali corrotti. Luca, stiamo generalizzando per fare un discorso. Inferiore lo dicono i nazisti, quindi ricacciati in bocca con la parola. Luca, non mi ricaccio nessuno però in bocca perché rivendico il diritto di poter parlare liberamente e di parlare anche di come c'è una parte d'Italia che fa fatica economicamente e che per questo rischia di perdere anche la voglia di fare l'intraprendente. Chirico, ricordo, ricordo a uno... Chirico, lei sa le battaglie che ho fatto contro la classe dirigente del Sud. Lo sa, ma...